La diffusione del covid nella nostra provincia corre sempre velocemente. Oggi 178 contagiati, ieri si erano registrati 159 nuovi casi e 4 decessi. Il team di psicologi dell'ASL mette in guardia. Seconda ondata molto pesante, gli operatori sanitari sono ancora stanchi dalla prima. Le regole anticontagio non gli permettono di fare visita alla moglie Carla, ricoverata Cassè San Giovanni. Così Stefano Bozzini, alpino classe 1939, ha imbracciato la fisaromonica e le ha suonato una serenata sotto la finestra dell'ospedale. Il Consiglio Comunale di Piacenza ha bocciato la proposta di Antonio Levoni di dedicare una piazza cittadina all'ex leader socialista Bettino Craxi. Ok dell'aula all'ampliamento della Motridal di Via Bubba, previste 40 assunzioni. Il Piacenza e tutto il mondo del calcio piacentino piangono Sergio Montanari, morto all'età di 80 anni, fu giocatore e allenatore dei Biancorossi. Il suo ricordo questa sera a zona calcio. Tra gli ospiti il presidente del Piacenza Roberto Pighi e l'ex calciatore Marcello Campolonghi.